Musica 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 Bene, grande emozione un po' di ansia ammettiamo che c'è, però tutto bene, l'ansia vera arriva una da prima della gara Musica 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 Quando hai avuto comunicazione che se resti andato tu alle Olimpiadi come l'hai presa? È stata una grande emozione molto, molto, molto felice è stata molto combattuta con Davide che anche lui era l'altro candidato e con Sergio quindi me l'aspettavo, sì necessariamente grande responsabilità spero di riuscire a soddisfare le aspettative di tutti Musica Spero di andare a vincere dato che le possibilità ci sono spero proprio di riuscirci Musica Musica Cosa dirai al Cristiano Ficco che sta per entrare in pedana? Non lo so lo deciderò al momento vedrò come sta lui e poi glielo dirò con molta nonchalance Musica 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 Musica